Un saluto a tutti da Francesco Samani e faccio questo video per rispondere ad una domanda posta da voi, da Vincenzo Dag tre ore fa, quindi ho cercato di rispondere nel più breve tempo possibile. Allora ringraziamo Vincenzo Dag, Baessa Sessa che ci fa delle domande, Giuseppina Morrone, complimenti, grande esempio, grazie di cuore, Mancusi Antonella sei molto chiaro, grazie mille, Fanny Lombe niente è complicato quando lo spiega lei, ti ringrazio tantissimo per ciò che dici, Giovanni Davide Matera, ole ole ottimo come sempre, scuola e cultura, grazie infinite. Grazie per tutte le persone che seguono e grazie per tutte le persone che lasciano i commenti e condividono il canale. Allora, leggiamo l'esercizio. 60 secondi di risposta, quindi ci sono due domande. La prima è la soluzione al quesito. Qual è la soluzione al quesito? La seconda, come facciamo a risolverlo Bene, allora, per risolverlo subito e poi comunque desidero sempre spiegarvelo, vi dico, è un quadrato. L'area di un quadrato, la superficie di un quadrato, è lato per lato, lato alla seconda. Quindi se la dimensione lineare è 1, l'area sarà 1, se la dimensione è 2, l'area sarà 4. Basta trovare quel numero L elevato al quadrato che sarà minore di 550 e L più 1 al quadrato sarà maggiore di 550. E nella fattispecie 23 alla seconda è esattamente 529. Ossia, se usiamo 23 tessere al quadrato, quindi 529 tessere, abbiamo un quadrato di esattamente 529 tessere che sono meno di 550 e ci abbassano. Se ne facciamo 24 al quadrato, ne servirebbero 579, ma ciò non è possibile perché ne abbiamo solo 550. Veniamo adesso a noi per cercare di capire perché la soluzione è questa. Allora, per risolverlo in meno di 60 secondi, rivedetevi se volete il video sull'elevamento a potenza. Ho fatto qualcosa proprio di specifico perché ho visto tanti esercizi che si risolvono immediatamente con l'elevamento a potenza e con le serie numeriche o le successioni. Adesso vediamo che c'entrano, come mai c'entrano tutte e due. Allora, vediamo, ho una tessera. Che quadrato posso fare? Questo qui. Poi voglio fare un quadrato più grande. Improvvisamente mi servono 4 tessere. Allora, una tessera, qui ne devo aggiungere 3 e 1 più 3 fa 4. Dopodiché, se aggiungo 5 tessere, eccole qui, 5, ottengo un quadrato da 9. Se aggiungo altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottengo un altro quadrato e così via. Se ne aggiungo 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora, la serie o la successione numerica che si viene a creare sono tutti quei numeri disperi, 1, 3, 5, 7, ne aggiungo 9, poi ne aggiungo 11, poi ne aggiungo 13. E così via via andiamo a costruire quadrati sempre più grandi. Ma in particolare ci interessa capire l'area di ognuno di questi quadrati. Quindi, di questo piccolino, di questo più grande, di questo più grande ancora, ovviamente è data dalla somma dei quadratini. Quindi l'area del primo sarà 1, l'area di 1 più 3 sarà 4, ma l'area poi di 4 più 5 è proprio 9, l'area di 9 più 7 è 16, l'area di 16 più 9 è 25, l'area di 25 più 11 è 36. E guardate un po' che cosa succede. 1 è 1 alla seconda, 4 è 2 alla seconda, 9 è 3 alla seconda, 16 è 4 alla seconda, 25 è 5 alla seconda, con 36 è 6 alla seconda. Quindi tutti i quadrati che io posso formare, li posso formare come una potenza, come un numero naturale elevato alla seconda. Quindi con 7 alla seconda ne ottengo un quadrato di 49 tessere. Con 8, 9, 10 alla seconda sarà 100 tessere, 11 è 121, 12 è 144, per arrivare per esempio a 15 è 225, 20, 20 per 20 è 400, 23 è 529, con 24 è 579. Ma noi ne abbiamo, 550 abbiamo detto, dobbiamo trovare quel valore, l, ok, che elevato alla seconda mi dà un numero inferiore a 550 e il suo successivo, ossia 24, mi dà un numero maggiore di 550. E ovviamente il risultato è 23. Abbiamo capito, scusate, 23 se vi chiede la lunghezza del lato, l uguale 23. Se vi chiede l'aria in unità è 529, ma le nostre unità sono anche le tessere, quindi anche le tessere sono 529. Questa è la soluzione ovviamente dell'esercizio. Però ci tenevo a ritornare, perché poi tutto, vedete come tutto poi si ricollega, che l'esercizio, una volta che abbiamo capito che il funzionamento, possiamo subito capire che se abbiamo a che fare con la superficie o col cercare di costruire un quadrato, sappiamo che L alla seconda si dice anche L al quadrato, proprio perché elevare un numero alla seconda significa disegnarne o comunque costruirne la sua superficie. Quindi quando io dico L al quadrato, sto dicendo L alla seconda perché mi faccio proprio riferimento al quadrato. Viceversa, se avessi avuto dei piccoli, diciamo dei parallelepipedi, dei piccoli cubetti, L al cubo è correlato al volume. L al quadrato, quindi L alla seconda è legato al quadrato, quindi alla superficie. L alla terza è collegato al volume e nel nostro caso noi abbiamo una figura piana. Quindi la soluzione è che qui abbiamo un lato di 23 e una superficie composta da 529 tessere quadrate di legno colorato. Ovviamente poi il fatto che il piccolo si chiami Federico, il fatto che le tessere siano di legno colorato, il fatto che tutti questi dettagli non interessano, l'unico dettaglio fondamentale è che sono tessere quadrate di legno di medesime dimensioni. A quel punto si risolve assolutamente in meno di 60 secondi se si ricorda tutto quello che poi ho spiegato, cioè il principio per cui si possa avere un quadrato. E si può avere un quadrato se si ha una superficie che è l'elevamento a potenza, l'elevamento alla seconda o l'elevamento al quadrato di un numero naturale. Nel nostro caso il quadrato maggiore che si può ottenere è proprio 529 e se mi dite guarda io ho difficoltà a ricordarmi i quadrati a memoria, l'elevamento al potenza a memoria, vi potete vedere, mi sembra forse proprio l'ultimo video che ho fatto o comunque ne metterò anche un altro perché nell'ultimo affrontavo, credo che affronto 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta, 2 alla quinta, 2 alla sesta fino a 2 all'ottava e così via, cioè prendo i primi numeri e affronto le potenze via via crescenti di questi numeri. Poi farò un altro esercizio nel quale, in maniera sempre tappellare, affronterò diversi numeri, eventualmente ci potremo spingere fino al 25, elevati alla seconda o al massimo elevati alla terza, se vi dovesse chiedere per esempio di formare una figura solida, quindi a tre dimensioni, e quindi è fondamentale ricordarsi anche non solo l'elevamento a potenza alla seconda ma anche l'elevamento a potenza alla terza. Bene, io con questo spero di averti risposto Vincenzo, se ci sono dei dubbi, se qualche dubbio rimane, io sono a completa disposizione perché ho detto insomma rinnovo il desiderio di mettere in comune, mettere a disposizione la mia esperienza, la mia conoscenza per cercare di dare un valido aiuto a tutti voi che mi state seguendo. Con questo vi ringrazio, soprattutto se siete arrivati alla fine del video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e di parlare del canale con i vostri amici. Buono studio, buon pomeriggio e tanti auguri per ogni cosa. Un caro saluto da Francesco Samani.